La scorsa notte l'esplosione ed il maxicolpo al bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di Cesa ed adesso è scattata la caccia ad una BMW con la quale la banda sarebbe scappata tutto gas. I malviventi erano infatti entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì attorno alle 4. Con un gas presumibilmente Cetilene avevano fatto saltare in aria al bancomat. Una bomba gigante, ti giuro, ho sentito soltanto smuovermi dal letto e basta, perché poi io non mi sono alzato, capito? In mia, mi sa che poi hanno chiamato e hanno avvertito che dovevano avvertire e basta, insomma. Ma la fretta oppure la paura di essere colti sul fatto gli aveva costretti ad accontentarsi di 25.000 euro ripossi all'interno di uno dei due contenitori dell'ATM, lasciando invece lì il contenuto dell'altro scomparto circa 60.000 euro. Subito dopo, la banda si era data ad una precipitosa fuga a bordo della BMW, lasciando dietro di sé le banconotte sparse ovunque. Inutile la corsa dei carabinieri e delle guardie giurate, al loro arrivo dei ladri non c'era infatti più traccia. Immediato comunque l'avvio delle indagini, al vaglio degli investigatori ci sarebbero le immagini delle telecamere di sicurezza, oltre ai riscontri fatti sul posto e alle testimonianze raccolte.